L'ormai nota chiusura del viadotto Puleto tra Pieve Santo Stefano e Val Savignone rischia di trasformarsi in catastrofe economica per chi lungo la E45 da Sansepolcro verso nord ci lavora. Due le principali aree di servizio nella zona che non passando più nessuno si sono letteralmente desertificate. Tra dipendenti ed indotto sono circa 200 le persone che rischiano il posto. Nell'area di servizio di Pieve Santo Stefano sede anche un hotel con 55 camere, tutte vuote. In due giorni è stata stimata una perdita di 3.500 euro, addirittura si pensa alle ferie forzate. E se è vero che la cosa si procrastina a lungo, come sembra fino al 20 febbraio minimo, per noi è un danno enorme. Tra l'altro noi oltre ad essere gestori dell'Eurotel e proprietari, siamo anche proprietari delle due aree di servizio gestite da Autogrill. Occupiamo 29 dipendenti complessivamente quest'area di servizio, quindi per noi è molto grave. Ma io penso a tutti quelli che vengono da Bagno di Romagna, che venivano giù, gli studenti. È un disagio enorme, è una disgrazia per noi. Chi lavora in movimento come le linee di autotrasporto in parte è riuscito ad aggirare il problema, ma al caro prezzo di allungare i chilometri e il tempo di viaggio. Stiamo facendo dei servizi di emergenza, percorrendo una strada che è già disagiata di suo, con orari aggiuntivi di circa un'ora per tutti gli utenti che trasportiamo, in particolare i studenti che sono quelli più penalizzati, perché da Bagno di Romagna, se in condizioni normali partivano al mattino alle 7, che attualmente devono anticipare di un'ora la loro levata per raggiungere gli istituti scolastici. E se fino ad oggi il meteo ha retto, in caso di neve la situazione rischia di arrivare al collasso. Certamente se nevica, se si chiudono le strade è finita, insomma. Non è più possibile raggiungere le scuole, perché facciamo due o tre passi in appennino per arrivare alle scuole, cioè è una cosa impossibile. Intanto la provincia di Arezzo è stata convocata al MIT il 22 gennaio per la gestione dell'emergenza. La convocazione ha fatto seguito a una lettera sulla questione che l'ente ha inviato al ministro per le infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli.